Lignano, Libro possibile, Sara Ciaffardoni, oggi hai presentato il tuo ultimo libro, La ragazza che scrive, ma sei tu? In parte io diciamo che è un percorso di vita perché ho iniziato a scrivere questo libro proprio grazie a uno dei forse momenti più bui, ovvero otto mesi in ospedale ed è stata una rinascita. Lucia è un personaggio a sé, però abbiamo iniziato questo viaggio di riscoperta insieme, quindi un po' mi appartiene. La lettura è salvifica? Sì, è tanto salvifica, è una conoscenza di se stessi, anzi proprio questo fatto di essere molto spesso in ospedale mi ha permesso, grazie ai libri, di viaggiare perché un treno, un aereo non l'avrei mai potuto prendere. Tu sei diventata famosa tra i suoi coetanei perché sei una book instagrammer che sarebbe praticamente cosa? Coloro che parlano dei libri sui social, in particolare su Instagram, poi man mano sono espansa su altri canali, però è un modo di far conoscere agli altri questa cosa che molto spesso sembra quasi denigratoria, i libri. Invece è un mondo bellissimo e a tanti ragazzi piace leggere, bisogna solo trovare il giusto appiglio. Qual è il tuo scrittore preferito? Io ne ho tantissimi di autori classici, amo e amerò sempre Shakespeare, invece di autori contemporanei da Venio. Qual è il tuo scrittore preferito?